intanto Belen continua a fermare autografie ai suoi lettori e a fare bellissime foto nel frattempo vi ricordo che qui alla mia sinistra c'è la vendita del libro di Belen Bella Belen edito Mondadori oggi al 15% di sconto c'è la nostra cassiera che vi sta aspettando con un bel sorrisone quindi vi invito a venire a acquistare il libro così potete salire sul palco anche voi a farvelo autografare e a farvi una bella foto con una bellissima Belen rubrica a farvi una bella Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.